Da questa parte c'è una persona che sta facendo per la prima volta un punto al centro, vediamo se possiamo farlo esplodere Ciao amici iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e attivate la campanellina per non perdervi nessun mio fantastico video Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo fantastico video dei Lucky Islands Siamo in un'altra fantastica partita in questa mappa tutta rosa, quanto pare è di una ragazzina questa mappa Guardate un po' quanto è rosa, ci sono così tante case, castelli tutti colorati di rosa che sono veramente belli da vedere Vediamo se qua c'è un Lucky Block, c'è un Lucky Block nascosto Ok, apriamo questo Lucky Block e quanto pare ci dovrebbe dare una bella bacchetta magica e cerchiamo di farci tantissimo pane Così possiamo non avere problemi, abbiamo trovato una bella spada infuocata Sì, abbiamo trovato la Fire Sword, con la Fire Sword possiamo incendiare il nemico premendo destra Quindi questo è fantastico Allora dobbiamo semplicemente trovare un enderpearl o dei blocchi, speriamo, speriamo di aver trovato la bacchetta magica Oh abbiamo trovato un'altra spada infuocata, fantastico vabbè Deve essere uguale, sì infatti sono uguali, non si possono a quanto pare potenziare Vediamo adesso se ci sono altri Lucky Block dietro al castello, sono sicuro che ce ne saranno altri Infatti devo trovare un arco rampino o tipo un enderpearl o qualcosa di interessante Sì, abbiamo trovato un arco rampino, sì Buonissimo, questo è fantastico questo arco, possiamo andare da chiunque in due secondi Questa modalità mi piace veramente tantissimo, questi Lucky Block sono veramente tanto belli Avete visto ci sono così tante cose che si possono trovare, così tante cose che si possono utilizzare Che è veramente troppo divertente Abbiamo trovato pure la bussola, oh che bello Vediamo un po' se qua il nemico c'è ancora No, è andato qui al centro, è appena fatto una bella uccisione Vediamo un po' se possiamo ucciderlo Sì, guardalo, guardalo, è piccolino, fantastico Ok, mamma mia è forte, è fortissimo Vediamo un po' che cosa riusciamo a fare Ok, era veramente spaventato, non sapeva proprio che cosa fare Perché quanto pare era rimasto con mezzo cuore Comunque mi aveva fatto veramente tantissimi danni, mamma mia Avevo rischiato di morire, per fortuna sono riuscito a vincere Adesso cerchiamo di ricaricare la vita E vediamo un po' da andare da qualcun altro Ok, con questo possiamo ghiacciare il nemico Con questo possiamo crearci uno scudo Oh, abbiamo il respiro del drago Questa bacchetta magica è potentissima Adesso che abbiamo una bella spada in diamante Utilizziamo ovviamente solo quella Adesso che faccio? Guardate là c'è un piccolo Alex, mamma mia Devo cercare di andare da quelli e cercare di ucciderli Perché sono quelli migliori da uccidere Oh, guardate il centro, è pieno di gente Ok, facciamo una cosa, andiamo al centro Così ci facciamo veramente tante uccisioni Nel frattempo apro questi lacrybook e spero di trovare un'armatura Però non ho trovato nessuna armatura Guardate qua, wow, pazzesco Avete visto? Ha fatto un casino pazzesco Questo si nascondeva qui Era spaventato il piccolo Alex Ah, perché aveva due cuori, ecco perché L'altro dove si trova? Si trova proprio da questa parte A quanto pare sta scappando questo schifoso È veramente spaventato, avete visto? Facciamo il giro Ok, lo prendiamo da questa parte Ok, benissimo Vai che è morto Dai che è morto Cerchiamo di utilizzare l'arco Sì! Fantastico Cercava tanto di scappare Però non poteva scappare dalle mie frecce Infatti è morto Ora, cerchiamo un po' qua Di trovare tipo qualcosa di più resistente Oh, che bello Per fortuna ho trovato qualcosa di resistente Oh, guarda Questo, questo, questo Da dove è venuto? Aiuto Stavo per prendere l'arco power 1 Però non sono riuscito a prenderlo Ok Ok, fantastico L'abbiamo ucciso Ok, utilizziamo la bacchetta magica Della rigenerazione Mangiamo tanto pane Così rigeneriamo in due secondi Infatti sta già arrivando qualcun altro Ma tutti vengono a darmi fastidio Pazzesco Guardate quante persone Stanno arrivando Il problema è che io C'ho ancora dei pezzi in leather E non sono così tanto resistente Guardate quante cose che ho trovato Wow Quello lì Deve essere ferito Oh, mio Dio Piccolo power È riuscito ad ucciderlo Pazzesco Guardate quanto loot Che c'è da quella parte Andiamo subito a prenderlo Perché forse troviamo qualche elmetto Qualche pantalone O qualche boots in ferro O addirittura in diamante Se abbiamo tanta fortuna Siamo rimasti poi semplicemente in due Quindi questa partita diciamo che è già finita È stata veramente divertente Perché abbiamo fatto tante cose interessanti Vediamo un po' se riusciamo a trollare L'ultima persona rimasta Forse tipo facendola esplodere O facendo qualcosa di interessante Perché sarebbe tanto tanto divertente Allora, dov'è che si trova? Ovviamente utilizziamo la nostra bella bussola Ninja si trova proprio da questa parte Infatti è proprio lui L'ultimo rimasto E si sta nascondendo in quella casa Visto che ho l'arco rampino Cerchiamo di utilizzarlo Perfetto Guardate dove sono arrivato Non se l'aspettavo Guardate quel piccolino Non sa cosa Non sa dove sono Avete visto? Mi sta cercando Non ci posso credere Mamma mia quanto è divertente Trullare i piccolini Che cosa sta facendo? Non si è accorto di niente Guardate si è spaventato Non ci posso credere Vai vai Gli ho buttato una bella Altinetti per cercare di farla esplodere Oh mio dio Quanto danno che ha ricevuto Avete visto? Sta ancora guardando lì davanti Lui crede che io sia davanti O sia sotto di lui Invece sono sopra di lui Allora cerchiamo qua Di bruciare la base No Questo piccolino voleva già Venirmi ad uccidere Che sfortuna Volevo tanto bruciare questa fantastica casa E vedere cosa riuscivo a fare Ho fatto 5 uccisioni Che partita fantastica Siamo in un'altra fantastica partita Ci troviamo nella mappa bonsai Che è tipo una mappa giapponese Guardate quant'è bella Oh mio dio Abbiamo trovato una spada in diamante Ho scelto il kit della spada in pietra Per cercare di spawnare Con una spada in pietra E io che faccio? Trovo una spada in diamante Ma che sfortuna Vabbè Ora cerchiamo di aprire il lucky block E vediamo un po' Che cosa riusciamo a trovare Abbiamo fatto adesso del pane Apriamo adesso questi lucky block Vediamo un po' Cosa troviamo Vorrei intanto trovare un piccone Per cercare di prendere Ovviamente quel diamante Però non so se riuscirò a trovarlo Avete visto che abbiamo trovato La bacchetta magica della TNT Quindi possiamo griffare qualcuno Se ce la facciamo E abbiamo trovato pure una granata Oh Ma le isole sono collegate a alcune Avete visto? Fantastico Vai vai Facciamo esplodere quello Guardate che stupido Che stupido che è stato Ok Non volevo buttarlo giù Sapete il perché? Indovinate un po' il perché Perché volevo prendermi I suoi pantaloni in diamante Adesso sono bellissimo Con i pantaloni in diamante E ovviamente sono molto più resistente Ma questo piccolino che cosa faceva? A quanto pare era così spaventato Che non ha aperto neanche i suoi lucky block Pazzesco Guardate quanti lucky block ci sono Che posso aprire E abbiamo trovato Anche una bacchetta magica Ovviamente Del coso La bacchetta magica di ghiaccio Che ci crea il ponte Fantastico Facciamo una cosa Cerchiamo di andare subito dagli altri Perché non dobbiamo perdere così tanto tempo Secondo me Oh Questo Oh Aiuto Vai vai Prenditi questa TNT Schifoso Oh mio dio Stavo per cadere Non ci posso credere Ok ok Sono tipo bloccato Se ce la faccio Scappo via adesso Mamma mia Ha cercato di farmi esplodere quello schifoso Eh Il problema è che io non ce l'ho l'arco Lui ce l'ha invece Cerchiamo di svuotare un po' l'inventario Perché ce l'ho pieno di sporcizia Oh giusto Ma che stupido che sono C'ho la bacchetta magica Che crea il ponte di ghiaccio Quindi non serve nemmeno Che sto qui a giocare con lui Basta che faccio questa cosa E posso andare direttamente da lui Giusto Si trovo qui da qualche parte Quel piccolino schifoso Però non so dove Non ci posso credere Ha fatto un ponte sopra di me Io non me ne sono manco accorto Veramente Non ci credo Eh vabbè Adesso che faccio Sapete che faccio Prendo tutti questi diamanti Giusto Sapevo che avevo adesso il picco di ferro Infatti devo cercare Di farmi l'armatura resistente Perché se no Non ce la farò mai a vincere Oh guardate qua Anche con il ferro Possiamo farci l'armatura Giusto Ci facciamo nel frattempo Una bella chestplate Nel frattempo Che cerchiamo di prendere Gli altri diamanti O tipo l'altro ferro E vediamo un po' Di andare da quello Eccolo qui Lo schifoso Lo schifoso Che mi fa espodere Con i blocchi in diamante Non ci posso credere No giusto Che mi faceva espodere Con l'arco esplosivo È caduto Non è caduto Non ci credo Si è salvato No A quanto pare Si è salvato No è morto Deve essere morto Si infatti è morto A quanto pare Non mi ha dato l'uccisione Perché sembra A quanto pare Che si sia suicidato Da solo con l'enderpelle Anche se l'avevo colpito Peccato Volevo tanto prendermi l'uccisione Vabbè Chi se ne frega Ora continuiamo qua Con il diamante Con il ferro Perché voglio diventare Super resistente Ora che sono al centro Vediamo un po' Di aprire altri bellissimi Luckybox Sperando di trovare qualcosa Abbiamo trovato la bacchetta magica Più potente di questo server Cioè il respiro del drago Questa è potentissima E la utilizzerò subito Contro quelli che sono al centro Che sembrano essere Veramente tanto tanto forti Guardatelo Guardatelo che prende tutto il loot E ti brucio tutto il loot Schifuzzo Ok Allora vado subito al centro Se ce la faccio E ammazzo questi No non ce l'ho fatta Quell'altro è scappato Con l'enderpelle Non ci credo Ok Mamma mia Si Fantastico L'abbiamo ucciso Ma l'altro dove è andato via Oh Si è suicidato con l'enderpelle Che stupido Poteva salvarsi Non ci credo Da questa parte c'è una persona Che sta facendo per la prima volta Un punto al centro Vediamo se possiamo farlo esplodere Non ci posso credere Fantastico L'abbiamo fatta esplodere Non ha nemmeno rimbalzato È morta sul colpo Nel frattempo qui ho trovato Un blocco di diamante E ci facciamo finalmente L'ultimo pezzo E boom Sono diventato full diamond Sto facendo veramente tante uccisioni In questa partita Sta andando veramente benissimo E da quella parte c'è uno Che sta facendo Un po' Un coso verticale Per cosa? Per andare da chi? Non ne ho idea sinceramente Però so che qui c'è una persona Guardate Qua c'è una persona schifosa Cerchiamo subito di ucciderlo Se ce la facciamo Sta scappando Quanto pare È veramente spaventato Guardate È un piccolino Appena iniziato a giocare a Minecraft Oh invece no Oh Ok Non ci posso credere No 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 Invece questo sapeva Piazzare i blocchi sotto di sé Infatti era forte Il problema è che Si è suicidato da solo Eccolo Si trova da questa parte Ok Aspettiamo che l'arco rampino Si riempa E poi possiamo andare Da un piccolo Pikachu Un piccolo Pikachu Veramente spaventato Però Io Non ti risparmierò Ovviamente devo cercare di ucciderlo Io adesso mi shifto E sono sicuro Che questo si farà vedere E io cercherò di farlo esplodere ancora Haha Infatti Ah ma c'ha la TNT Ma ce l'ho anche io Amico mio Ce l'ho anche io Guardatelo che mi tira la TNT Lo schifoso Ora cerco finalmente Di utilizzare questo Questo arco Devo cercare di tirarlo sopra Perché lui Avete visto Che c'ha un fantastico Elytra Quindi Sono sicuro Che vorrà tipo scappare via Vai 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 Perfetto Andiamo andiamo Si Andiamo via Andiamo andiamo Dov'è 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 che si trova Dov'è andato Dov'è andato Con il piccolo Pikachu No sta scappando Lo sapevo Lo sapevo Avete visto Sta salendo per cercare di utilizzare l'Elytra Dove si trova Oh Non ci posso credere Si è buttato E ha sbagliato la mira GG Abbiamo fatto 4 uccisioni Questa partita è stata fantastica Il piccolo Pikachu Ha sbagliato la mira E si è andato a suicidare da solo Questo video è stato veramente Tanto divertente Ditevi nei commenti Cosa ne pensate Se vi piacciono i lacchi I blocchi Iscrivetevi al canale Premendo il tasto Non si iscriviti E lasciate un bel mi piace E ci vediamo al prossimo video Ciao ciao Ciao